Gli occhi stanchi, gli occhiai e le borse, oltre allo scarso riposo, magari la stanchezza tante ore davanti al computer, anche la disidratazione o al contrario la ritenzione idrica possono favorire la comparsa di borse e occhiai e rendere l'aspetto poco luminoso e stanco. Per salvare il contorno occhi, creme, siere, maschere e trattamenti beauty non bastano, bisogna nutrire, secondo la medicina e la nutrizionistica, questa zona dall'interno. Insomma, la bellezza della pelle dipende anche dall'alimentazione, quindi giù il sale, bisogna ridurre il consumo, soprattutto alla sera, quindi limitare i formaggi, salumi a cena perché favoriscono l'accumulo di liquidi in eccesso, poi ridurre il consumo di caffè e di alcol che aumentano la disidratazione. Via Libera invece ha alimenti ricchi di vitamine, di fibre, minerali, antiossidanti che assicurano l'idratazione e il nutrimento in profondità. Ed ecco i cinque cibi per ringiovanire lo sguardo e combattere occhiaie e borse. Primo il kiwi, uno dei frutti maggiormente ricchi di vitamina C, ne contiene quantità maggiore rispetto alle arance. Questa sostanza simula la produzione del collagene e dell'elastina che aiutano a mantenere la pelle elastica e ben nutrita. Per farne il pieno il suggerimento è di scegliere di origine biologica, di mangiarlo con i semi. In più il kiwi è una miniera di potassio che aiuta a drenare i liquidi in eccesso. E poi a seguire dopo i kiwi le ciliegie che consentono il pieno di antiossidanti, hanno una straordinaria, eccole qui, una straordinaria azione diuretica depurativa ed antinfiammatoria. Sono ricche di vitamina A, il beta carotene, vitamina C, vitamine del gruppo B. In più le ciliegie hanno un concentrato di minerali che aiutano ad illuminare l'incarnato della pelle. E per favorire il drenaggio ecco i carciofi. Hanno spiccate proprietà diuretiche, favoriscono la salute degli organi emuntori come la pelle, i reni, il fegato che presiedono lo smaltimento delle tossine e delle scorie. Inoltre i carciofi assicurano una buona dose di inulina, una fibra prebiotica che favorisce l'aumento dei batteri buoni e mantiene pulito l'intestino. E dopo i carciofi per depurare il limone. I limoni sono ricchi di vitamina C che stimola la produzione di collagene ed ha una straordinaria azione antiossidante. Il limone è ricco di potassio che favorisce l'eliminazione delle sostanze di scarto. Inoltre fornisce il limonene, una sostanza presente soprattutto nella scorza, che protegge i tessuti dall'infiammazione e favorisce un colorito della pelle più luminoso. E per ritrovare un viso più fresco anche il cavolo riccio che come tutti i cavoli è ricco di antiossidanti tra cui flavonoidi, polifenoli, niacina, beta carotene e vitamina E che favoriscono la circolazione. Il cavolo poi ha un'azione remineralizzante grazie all'elevato contenuto di potassio e di magnesio che contrastano la fatica anche nella zona del contorno occhi.